Voi venire a cena con me in un ristorante con gente molto 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 gradevole, un'atmosfera tranquilla, questo venerdì 30, non ti dico dove, costa solo 16 euro, una cena buonissima tutto compreso, primo, secondo, contorno, dolce eccetera eccetera, caffè, ammazza caffè persino forse, non lo so, comunque insomma una cena completa e poi si balla tango, dobbiamo prenotare, quindi iscriviti in privato se vuoi venire a cena con me, ciao, con artista Doctor You